La Polizia di Stato dell'Aquila ha smantellato un'associazione dedita allo spaccio di sostanze stupefacenti a tutta una serie di reati collegati. Dalle prime ore di questa mattina è scattata la maxi operazione antidroga dopo indagini che andavano avanti da due anni. I poliziotti della sezione investigativa del servizio centrale operativo e della locale squadra mobile hanno eseguito 26 misure di custodia cautelare, di cui 18 in carcere, una domiciliari e un obbligo di dimora, 11 perquisizione nei confronti di cittadini stranieri italiani, indagati ora per associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. Il quadro accusatorio è importante, ha sottolineato il PM e 200 uomini impegnati sul territorio con l'ausilio di un elicottero per i controlli dall'alto. Il questore Enrico De Simone ha sottolineato che oltre alle misure cautelare in questione, bloccati anche soggetti appartenenti alle baby gang di origine tunisina che si erano distinti per episodi legati alla movida in centro. Si sta valutando col prefetto anche questa situazione per eventuali provvedimenti. La dirigente della mobile Cecchetti ha spiegato che è stata ricostruita l'esistenza di una ben precisa organizzazione criminale che serviva una fetta di clienti di ben 650 persone, con un guadagno attorno ai 2 milioni di euro, organizzazione strutturata composta da italiani, macedoni e albanesi con rapporti di parentela tra loro. Avevano piazze di spaccio ben definite che toccavano tutto il capoluogo, una in periferia in zona pile, una appena fuori dal centro e una più importante ubicata nei pressi del parco del castello in pieno centro storico. L'associazione ha preso negli anni sempre più affiliati il potere per rispondere alla grande richiesta di droga. Per capire la tipologia di lavoro, la dottoressa Scicchetti ha fatto un esempio. Un soggetto che voleva affiliarsi chiede al vertice quale tipo di lavoro poteva estaurarsi. La risposta è stata proponiamo contratti a tempo indeterminato e propone il vertice pagamento accottimo a seconda delle dosi vendute o in base a ore lavorate, indipendentemente dalla droga venduta. C'era quindi una precisa gerarchia di ruoli, elevata disponibilità di vetture e appartamenti. Tre persone al vertice di questa associazione, nove intermediari e 19 pusher. Il sequestro è stato di 700 grammi di cocaina. Ciò che conta è che come ha detto il capo della squadra mobile si è riusciti a smantellare un'associazione che presentava tutti i connettati della struttura associativa dedita al traffico di sostanze estuprofacenti. Sostanze estuprofacenti che verosimilmente faremo accertamenti sulla provenienza della droga ma che sicuramente si ricollegano con l'Albania, che si ricollegano anche addirittura con la Spagna in relazione ad alcuni elementi che sono sorti nell'ambito delle investigazioni e che comunque fanno capire che nelle mani di questi soggetti, di questi indagati vi era una notevole disponibilità di sostanze estuprofacenti del tipo cocaina. È stato indicato il giro degli affari, circa 2 milioni di euro.